Oh, che caldo! Oh, quanto è lunga questa strada! Ma chi è quello? Chi è? Angelo? Oh, ma chi è? Oh, ma io questo... Lo conosco? E tu che ci fai? Io sto cercando i soldi! La casa di Giorgio sta là! Amico, i soldi sono i miei, eh? Ma che... Vabbè, vediamo. Vediamo un po'. Ah, duello, amico. Utiamo le pistole tradizionali. Certo. Io ci passi, e poi ci giriamo. Inizia tu. Vabbè. Non è un po' di palpamenti, non è tutta la scira, non è tutta la scira. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.